Al ministro delle infrastrutture Salvini attuale e al presidente attuale Giorgia Meloni sono i responsabili e quindi anche a loro sollecitiamo che dall'alto delle loro competenze si adoperino per sollecitare a tutti i livelli, quindi facendo squadra. Facendo squadra potrebbe, dovrebbe far uscire Vicenza da un ritardo che ormai è diventato storico. Una missiva ciascuna ai vertici del governo inviata tre giorni fa, una raccomandata con ricevuta di ritorno dal comitato albera di Vicenza. Così i cittadini a un anno e tre mesi dell'apertura della bretella alla variante della SP46 denunciano la mancata realizzazione di una serie di lavori complementari, riassunta in dieci punti e ne chiedono il completamento a sei anni dall'inizio dei lavori. Giovedì un incontro in prefettura con ANAS e i rappresentanti di regione, provincia e comune e proprio con il sindaco a marzo il comitato albera aveva sollecitato un incontro pubblico per fare il punto sui cantieri, anche quelli per il completamento della tangenziale nord del secondo e terzo stralcio. Che l'amministrazione pubblica indica un'assemblea per confrontarsi con i cittadini, per la trasparenza, sapere come. Ci aveva promesso che l'avrebbe indetta in poco tempo, ora da marzo, praticamente ottobre, insomma varrebbe la pena di far seguire alle parole i fatti. Se parliamo della sicurezza sulla strada, sulla bretella, la bretella è in capo alla provincia, è una strada provinciale quindi è una diretta competenza della provincia sulla quale comunque c'è anche il nostro interesse chiaramente in merito alla sicurezza sulla strada, non ci teniamo di certo indietro. Come dicevo le interlocuzioni con ANAS ci sono da diversi mesi per andare a completare le ultime questioni che possono riguardare per esempio un miglioramento della segnaletica sulle quali stiamo aspettando un riscontro. Poi l'eventuale assemblea pubblica una volta che questi riscontri ci sono stati forniti non c'è nessun problema a organizzarla.